...della mamma e dicendo la mamma ma pure puro. C'è un momento del... ci sono due momenti dell'ultima notte in cui la figura della madre entra di prepotenza tra virgolette in... nella storia tra lui e lei. Lei, come è stato detto prima, è un'amica della mamma. Qui è quando lui si prepara per il vivere uno degli incontri. Caefa si gettò sotto la doccia e iniziò a strofinarsi ben bene per cancellare il corpo a ogni eventuale residuo di puzza di pesce che era stato al mercato con il padre. Non voleva sfigurare al suo primo appuntamento d'amore. Seppure i genitori avessero ben inteso dove stesse per andare, non avrebbero mai immaginato con chi si sarebbe incontrato. Indossò la tenuta da corsa fingendo di uscire per allenarsi. Io vado, disse attraversando di corso il corridoio. A che ora rientri? domandò sua madre seduta a tavolo con il marito. Non prima di cena, devo allenarmi per la gara. Buon allenamento, mormorò suo padre abbozzando un sorriso. Buon allenamento, le fece il collega orrucciata. Come ogni madre, faticava ad accettare l'idea che suo figlio stesse diventando uomo e preferisse un'altra donna a lei. Chissà cosa avrebbe detto, ma soprattutto fatto, se avesse immaginato che il collega che lo stava portando via era la sua migliore amica, quella che tutti chiamavano puntini, puntini, puntini. Quella per cui più volte aveva litigato con le persone per prenderne le difese. Solo lei sapeva quanto dolore e sofferenza aveva patito Miriam nella vita e non accettava che nessuno le parlasse male. È facile giudicare, difficile capire. Chissà se fosse stata dello stesso avviso se avesse saputo che il figlio era innamorato proprio di lei. E poi c'è quest'altro passo finale. Dopo la gara, all'improvviso, come se si ritestasse da un sogno, Caifa si rivolse a guardare la madre che fissava lo strascico di schiuma lasciato dalla nave ormai sbalita al di là del promontore, la nave su cui Miriam sta andando via. Ma Miriam non aveva solo la nonna come parente che se Caifa con lo sguardo interrogativo. Lei fece di sì con la testa. Tutti sapevano che, dopo la scomparsa della nonna, Miriam aveva continuato a vivere sull'isola perché non aveva dove andare essendo completamente sola. In quell'attimo lui comprese che Miriam stava fuggendo da lui, avendo così la conferma che lei lo amava davvero, cosa che lui invece ancora non era in grado di poter affermare. Solo vivendo l'avrebbe scoperto. Istintivamente il suo sguardo incrociò quello addolorato di sua madre. Nei suoi occhi l'essere una verità che gli straziò il cuore. Lei sapeva di loro. Per un momento pensò che fosse stata Miriam stessa a rivelarglielo, poi scacciò quel pensiero assurdo. Sua madre sapeva perché gli aveva letto nel cuore. Si chiese se avesse scoperto di loro prima o dopo il pranzo a casa di Miriam. Poco importava. Quel che era certo è che avrebbe portato con sé nella tomba il loro segreto. Secondo voi, se vostra madre scoprisse che siete innamorato di una persona più grande di voi, cosa direbbe? Poi si analizza il rapporto che loro hanno con le loro mamme, no? Ovviamente. Secondo voi. Secondo voi.